Grazie, quanti hanno un account Github? Ok, poco più di metà della sala. Se la regia mi può cliccare sulla prima slide, per favore, me la può aprire la presentazione. Ok, funziona. Mi presento, mi chiamo Marco Lombardo, sono un consulente di marketing, in particolare mi occupo di marketing del software libero. Ho fondato un'associazione che si chiama Associazione Industria Italiana del Software Libero che si occupa di rappresentare le aziende italiane che offrono una consulenza di livello professionale sul software libero, in modo da avere una comunicazione che sia strutturata e non sia più la comunicazione dilettantistica che spesso, purtroppo, abbiamo visto in molte comunità del software libero. L'associazione quest'anno è sponsor del Linux Day. Andiamo subito a Git e GitLab. Cosa sono Git e GitLab? Come penso tutti noi, a un certo punto ci siamo dovuti scontrare con questi pallini di Git. Cosa sono? Git è un software per il controllo di versione. Quindi immaginate di avere un documento, di creare un documento, qualsiasi tipo di documento, può essere un file in Python, può essere un documento di testo in italiano, e di creare la prima versione del documento. La salvate, il giorno dopo ci lavorate di nuovo, fate un edit, lo modificate, date un nome a quel salvataggio, ad esempio ho aggiunto questa funzionalità o ho aggiunto quell'altra cosa, la salvate e andate avanti. Quindi ogni giorno che passa fate un nuovo salvataggio e il vostro documento di partenza dal punto 1 avrà delle modifiche e diventerà un documento sempre più completo, un software sempre più completo. Questa cosa, il puntatore laser, ok. Questa cosa l'abbiamo vista anche in un banale software di word processor, quando voi avete il tasto avanti e indietro, potete cancellare l'ultima modifica. Cosa fa di bello git? Git vi automatizza questo passaggio, nel senso che vi struttura il controllo di versione permettendo di creare dei salvataggi, ognuno di questi pallini ha un salvataggio, ognuno di questi pallini ha una data, ha un autore, ed ha un motivo per cui è stato fatto il salvataggio. Ho modificato l'header, ho modificato il title. Cosa sono questi pallini qui in basso? Questi pallini qui in basso sono un ramo di sviluppo. Immaginatevi di avere un documento, di creare un documento, o di creare un software, il software per voi va bene, a un certo punto di punto in bianco arriva una persona nel vostro ufficio e vi dice, no, dobbiamo colorare tutto di verde, oppure dobbiamo cambiare questa funzionalità. Voi non volete sporcare il vostro ramo di sviluppo principale, perché ci avete lavorato per vari anni, Allora cosa fate? Vi create un bel ramo, quindi sdoppiate il progetto in due rami di sviluppo, e le modifiche strane le andate a fare in un altro ramo di sviluppo. Dopodiché, se questo repository avrà la storia combinata, sia del ramo di sviluppo strano, sia del ramo di sviluppo principale. In generale, comunque, si possono sviluppare quanti rami di sviluppo si vogliono e ognuno di questi rami ha una sua propria storia. Cos'è GitHub? GitHub è un social network. Immaginate un Facebook dove, invece di scrivere che oggi il tempo è bello, invece di scrivere buongiorno a caffè, ognuno dei vostri avanzamenti di stato è di fatto il salvataggio del giorno del vostro file. Quindi vi spunta lo status della persona che dice, oggi ho salvato questo, oggi ho editato il title, e le persone possono andare a commentare quelle modifiche, possono dire no, qui c'è un errore, oppure possono fare altre richieste. Il bello di GitHub, o di qualsiasi altro social network come GitLab, è che le persone possono condividere sul proprio profilo il lavoro che avete fatto, e quando condividono sul proprio profilo il vostro lavoro, non possono toccare il vostro lavoro, ma possono creare un loro ramo di sviluppo per fare le proprie modifiche, e poi o i due rami di sviluppo procederanno autonomamente, oppure potrebbero chiedervi, ad esempio, di far rientrare le modifiche che hanno apportato nel vostro progetto principale. Tutto questo non è nuovo, cioè intendiamoci, GitLab non è stato inventato oggi, GitHub non è stato inventato oggi, quindi boom, Marco, perché vieni adesso nel 2018 a raccontarci queste cose? Vi racconto per vari motivi, il primo è che il tema di quest'anno è il web, quindi come sta cambiando internet, e il secondo motivo è che GitHub sta diventando mainstream, ad esempio se voi prendete le leggi, alcune leggi come il codice dell'amministrazione digitale, sono versionati tramite questo software. Se voi volete sapere com'era una legge un anno fa, o com'era una legge dieci anni fa, GitHub vi permette di versionare questo. Quindi questo strumento è entrato anche nella facoltà della pubblica amministrazione, che non lo usa ancora in maniera diffusa, però lo utilizza. Qualcuno di voi sicuramente ha sentito parlare della recente polemica della Manina, in cui era stata scritta una legge, era stata approvata, e dopodiché non si sapeva chi aveva fatto queste modifiche. Bene, se la legge l'avessero scritta con Git e con GitHub, ci sarebbe stato un controllo di versione, dove una persona avrebbe fatto la propria versione, e altre persone avrebbero fatto della richiesta di cambiamento a quella legge, e si sarebbe potuto ricostruire la storia di quella legge. Quindi Git e GitHub servono sì per il codice sorgente, in Python, in HTML, in quello che volete, ma volendo possono essere utilizzati anche per l'italiano, anche i manuali, ad esempio, di un software, piuttosto che una legge. Se non ci interessa sapere quali sono le modifiche di una legge, spesso una legge cambia una sola riga. Dopo tanti anni, possiamo utilizzare Git e GitHub. GitHub non è l'unico social network, esiste un altro social network che si chiama GitLab, che è open source, che vi permette di scaricare quindi una versione del software e installarla sul vostro server. Non ho scelto questo esempio di GitLab, perché è un po' più complicato, ha delle funzioni di continuous integration di DevOps, di cui parlava il collega, e in generale, per quello che facciamo noi in questa presentazione, cioè il controllo di versione, va bene anche Github. Github ha un grosso problema in questo momento, che è stato acquistato da Microsoft, quindi non sapremo qual sarà il destino di Github, però ha il grosso davantaggio di avere alcuni strumenti. Il primo strumento è Atom, che è un editor di testo con cui potete creare il vostro testo e versionarlo. Ho messo qui due editor di testo, giusto perché è novizio, per dire che il codice o il testo che versionate deve essere testo puro. Cioè non pensate di utilizzare Word o OpenOffice per i vostri versionamenti, perché lì il testo ha una formattazione. Ad esempio il testo è grassetto, il testo è corsivo, il testo è rosso, qui noi versioniamo del testo puro. Entriamo quindi in un esempio pratico, creiamo il nostro account sul social network Github, e proviamo ad aprire un progetto, un progetto che chiamiamo demo Linux Day, un progetto pubblico, e aggiungiamo il nostro file readme. Appena aggiungiamo il nostro file readme, scriviamo un reposito di demo per il Linux Day, ci dà una urla, Github ci dà una urla del progetto, e ci fa vedere che è iniziata la storia del progetto. Cioè inizia il commit, ovvero il progetto è iniziato, e l'inizio del progetto è dato dalla modifica di questo file. Vedete c'è questo file readme che è un file nuovo, a cui ho inserito un titolo, e a cui ho inserito un testo repository demo. Quindi questo è il primo pallino del mio progetto. Prendo questo progetto e lo scarico sul mio computer con un comando che si chiama git clone, a cui aggiungo la urla del progetto che ho preso su Github. La prima scoperta che faccio è che all'interno di questa cartella che ho scaricato, oltre al file readme, c'è un file nascosto che è il .git, che è il file che salva tutte le modifiche che abbiamo fatto al nostro software. È una cartella che è tipicamente nascosta, che noi non dobbiamo toccare, però se qualcuno vuole avere la curiosità di sapere come vengono fatti i salvataggi, cioè dove finiscono i nostri salvataggi, finiscono là dentro. Prendo un progetto demo di esempio, che potrebbe essere Bootstrap, che è un framework per sviluppare siti internet oppure interfacce front-end, mi copio tutti i file di questo progetto di esempio nella mia cartella Github, o nella cartella del mio progetto, che ho appena creato. Copio tutti i file tranne, attenzione, i file di git, se erano presenti nell'altro progetto, i readme, e invece sto ben attento a tenere la licenza, perché le licenze open source ci dicono che non è obbligatorio tenere la storia dei progetti open source, potete farli ricominciare da capo, però se qualcuno vi aveva regalato un software con una licenza, dovete tenere quella licenza. Questo è l'esempio di sito internet che vi ho voluto buttare lì, come vedete è un semplicissimo sito, non c'è scritto quasi niente, lo prenderemo come modello. Entriamo nel nostro progetto Github, diamo un git status, che è un comando che ci serve per chiedere a git in che stato è il nostro progetto, e git ci risponde guarda, hai inserito in quella cartella dei file che ancora non sono tracciati, cioè non sono associati a quella cartella git che vi ho fatto vedere. Quindi diamo un git add, e questi file verranno aggiunti, da questo momento saranno tracciati. Dopodiché faccio il primo salvataggio e scrivo che ho aggiunto il tema bootstrap al progetto. Una volta fatto il primo salvataggio, con il comando git log, posso già cominciare a vedere la storia del mio progetto. Come vedete c'è, la storia del mio progetto include un initial commit che avevo creato su github, e il commit che ho aggiunto appena adesso, cioè ha aggiunto il tema bootstrap al progetto. Quindi il nostro progetto ha già due pallini. Abbiamo appena iniziato, e però già possiamo vedere la storia, possiamo vedere chi è l'autore che ha fatto le modifiche, possiamo vedere quando le ha fatte, e possiamo vedere il motivo per cui le ha fatte. A questo punto lo status ci dice che il nostro progetto è a posto, però sul server ancora non compare quest'ultimo salvataggio. Cioè sul server non compare ancora il fatto che abbiamo aggiunto il progetto bootstrap alla nostra cartella. Diamo un git push e spostiamo i nostri file all'interno del nostro social network. Come vedete, il nostro progetto già prende vita, perché trovo i file che avevo inserito nella mia cartella, li trovo sul mio profilo github, e ho pubblicato uno status, come se fosse anche qui un ciao, buongiorno, sto facendo questo, al posto di aver pubblicato un testo, ho pubblicato ai miei amici che ho aggiunto un tema bootstrap al progetto. Andiamo ulteriormente avanti, chiaramente dopo aver rubato questo tema andremo a fare delle modifiche. La prima modifica è il title, e dopo aver fatto questa modifica posso dare il comando git diff che mi mostra quale modifica è stata fatta al progetto prima ancora di salvarla in un commit. Cioè io avevo salvato precedentemente un avanzamento di versione, ho fatto una modifica, prima di salvare questa modifica voglio chiedere a git cosa è cambiato rispetto alla versione precedente prima di salvare. diamo un git status, diamo un git commit, quindi salviamo questo file, e diamo un git log per rivedere la storia di questo file. A questo punto vedete che la storia si allunga perché abbiamo l'initial commit, che è il primo pallino di salvataggio, abbiamo aggiunto un tema bootstrap al progetto che è il secondo pallino di salvataggio, e abbiamo additato il title. Da questa storia, se voi guardate ognuno dei salvataggi, commit in alto, la parte gialla vi dà un codice unito che si riferisce al salvataggio. Cioè se io dalla storia voglio vedere esattamente cosa è stato modificato durante uno di questi salvataggi, posso prendere questo codice, per esempio il primo 754C, eccetera, eccetera, lo chiedo tramite un git show, e git show mi farà vedere in questo file cosa è cambiato. Quindi abbiamo cancellato quello che era il title standard che era lì dentro, e abbiamo aggiunto Linux dai Palermo. Poi da fatti faccio successive modifiche, cambio anche qui, cambio ladder, vedete che già il sito che avevo preso in prestito ha una forma che mi assomiglia di più, perché lì in alto a sinistra c'è scritto Linux dai Palermo, qui c'è scritto Linux dai 2018, giornata nazionale per il software libero, iscriviti adesso, eccetera, eccetera, e il git diff mi fa vedere appunto le differenze tra quello che ho fatto adesso e l'ultimo salvataggio precedente. Anche qui andiamo avanti veloce, perché è sempre la stessa storia di prima, fondamentalmente dopo aver spinto tutti questi salvataggi sul mio social network, posso andare a rivedere la storia, e come vedete, la storia mi viene descritta in maniera un po' più pulita sul mio social network. Non so quanti di voi usano la shell di Bash, che è questo terminale, a molte persone piangono gli occhi quando vedono questo nero, pensano che sia qualcosa di un po' antico, o un qualcosa di... Allora, c'è la possibilità di vedere le stesse cose da tanti punti di vista. Quindi si può vedere un salvataggio, lo si può vedere o con la shell di Bash, oppure si può vedere in maniera un po' più carina sul mio social network. Il motivo per cui si usa ancora oggi la shell di Bash è perché è un'eredità che viene dal passato, che non verrà mai modificata. Prendete ad esempio la vostra tastiera, che ha i tasti messi in ordine non alfabetico, ma sono messi in ordine QWERTY, perché le prime tastiere meccaniche erano per evitare di far incastrare i tasti, avevano questa disposizione. Pensate che noi dalle tastiere meccaniche ci siamo riportati la tastiera QWERTY, quindi stiamo parlando di decine e decine di anni e non è ancora cambiato. Quando voi studiate la shell di Bash, sebbene all'inizio vi sanguineranno gli occhi, ricordatevi che una shell di Bash è per sempre, perché tutto quello che studiate, tutto quello che fate attraverso questo terminale, ve lo portate per sempre. Potete sedervi qualsiasi giorno, qualsiasi ora, davanti a qualsiasi computer, anche un nuovo telefono Android, le interfacce grafiche passano, la shell di Bash rimane la stessa dall'invenzione di Unix, fondamentalmente. Un altro motivo per cui si usa, e poi la chiudo, è il motivo di efficienza, perché mi permette di parlare con un server a distanza senza dovermi scambiare tutta l'interfaccia grafica, ma semplicemente digitando dei comandi che sono molto più efficienti da trasmettere. Andiamo avanti al progetto, e a un certo punto abbiamo detto che mentre noi stavamo sviluppando questo bellissimo sito internet, arriva nella nostra scrivania un disgraziato e ci dice, non mi piace, voglio colorare tutto di verde. Poi pensate, che schifo, a me il verde fa schifo, avevo creato un progetto con una mia storia, non volete sporcare il progetto principale, quindi create un ramo. Create un ramo, che lo chiamate test colori, e andate a modificare il CSS del vostro progetto all'interno di quel ramo test colori. Vedete quanto è brutto, però ci avevano chiesto di farlo, quindi l'abbiamo fatto, lo salviamo, e la cosa interessante è che quando noi lo salviamo, scusate, vediamo dove sono, sì, qui commit, quindi lo salvo, quando vado a vedere la storia, vedete che all'inizio la storia del mio progetto deriva dal progetto principale, che si ferma lì dove c'è scritto origin must, origin must header, mentre il mio progetto ramo continua lì dove c'è scritto add test colori, perché ho editato il CSS per colorare l'H2 di verde. La cosa interessante è che questo progetto colorato di verde prende la storia del progetto principale, ma non sporca il progetto principale. se io adesso con un git check out torno al mio progetto principale, ritrovo esattamente il mio progetto colorato di bianco, quindi non sono andato a sporcare il mio progetto principale, e posso andare a continuare a lavorare sul mio progetto principale, senza che le modifiche brutte che mi hanno richiesto siano entrate nel progetto principale. Quindi vado avanti, cambio ancora, cambio in questo caso, una barra di navigazione, vedete, lì c'è scritto Linux User Group Palermo, quindi faccio anche qui, mi faccio un bel salvataggio, scusate, e quando vado a vedere la storia del mio progetto principale, nella storia del mio progetto principale non c'è la storia del ramo. Cioè, io sono tornato a lavorare sul mio progetto principale senza avere la modifica del verde che mi avevano chiesto, perché è una modifica brutta che non ho voluto includere nel mio progetto principale. Boom! La persona che aveva chiesto il verde è il vostro cliente, oppure il vostro capo, e vuole assolutamente il verde, altrimenti non vi paga. Cosa succede? Che dovete prendere il vostro progetto principale e mischiarlo con il ramo in cui vi avevano chiesto di fare delle modifiche. Perché vi vi ci obbligano fondamentalmente, perché non è una vostra scelta. Allora, cosa fate? Unite due rami di sviluppo. Per unire due rami di sviluppo si usa il comando git merge che appunto unirà le modifiche che abbiamo fatto all'interno dei due rami. Git in automatico vi unisce il codice dei due rami, di solito senza quasi chiedervi nulla, tranne che non ci siano delle incompatibilità, ad esempio avete editato lo stesso rigo, oppure se ci sono delle incompatibilità si aprirà un editor di testo e vi chiederà quali delle modifiche volete cancellare. Ho fatto il merge, quindi ho unito i due rami di sviluppo e nella mia storia, nella storia del mio progetto adesso compare sia la storia principale, sia la storia del ramo, sia il fatto che ho unito due rami. Vedete quanto è brutto, però mi avevano chiesto di farlo così e quindi ho unito due rami ed è venuto così. A questo punto il ramo di sviluppo che è stato unito al progetto principale può essere cancellato. Andiamo avanti per farvi vedere sempre quello che vi dicevo prima, tutto quello che dalla scelta di basso sembra brutto e sembra complicato in realtà ve lo trovate anche su GitHub dove potete vedere la storia del vostro progetto a cui appunto corrisponde un aggiornamento di stato. È come se io quel giorno avessi aggiornato il mio stato e avessi detto che prima ho creato il progetto poi ho creato il ramo e poi ho fatto il merge per unire il ramo al progetto principale. E chiaramente di ogni modifica GitHub se andate a cliccare su un commit qualsiasi su un salvataggio qualsiasi GitHub vi fa vedere cosa è stato modificato. In questo caso vi fa vedere che durante il merge ho cambiato il CSS vedete che il colore era il colore non c'era questo file ho messo un CSS in cui ho indicato che il colore dell'H2 doveva essere verde. Ok, questa parte la saltiamo ve la risparmio Ok, quindi io cosa ho fatto sostanzialmente ho preso due rami di sviluppo che erano i miei rami di sviluppo ci lavoravo sul mio computer e li ho uniti ma il potere di GitHub sta nel fatto che io potrei prendere un progetto non mio ma un progetto che appartiene a qualcun altro che è di una comunità open source a cui io non posso lavorare direttamente ma che io posso condividere sul mio profilo ad esempio sono andato sulla pagina di quel progetto della pagina web l'ho condivisa sul mio profilo tramite un tasto che in alto a destra che si chiama fork vedete che in alto a destra c'è un tasto che si chiama fork e quando io condiviso sul mio profilo il progetto di qualcun altro non lo posso toccare perché appartiene a qualcun altro cosa posso fare? posso creare posso scaricarlo sul mio computer creare un ramo di sviluppo che in questo caso ho chiamato Marco e fare delle modifiche al mio ramo di sviluppo quindi in questo caso ho preso quel progetto di quella base di progetto web no io ho cambiato niente tranne il file readme andiamo avanti andiamo avanti e cosa faccio? ricarico sul mio profilo le modifiche che ho fatto al ramo cioè io ho preso il progetto di un'altra persona l'ho condivisa sul mio profilo il progetto condiviso non lo posso modificare perché non è di mia proprietà però posso da quel progetto lì creare il mio ramo di sviluppo faccio le modifiche che voglio fare al mio ramo di sviluppo dopodichè quando lo ricarico su github github mi permette di poter chiedere allo sviluppatore il progetto originale di includere le mie modifiche non so se è chiaro non è chiaro sono andato avanti un po' veloce allora ripeto immaginate di trovare un progetto su github questo progetto lo prendete dal profilo di un'altra persona e lo condividete sul vostro profilo tramite un fork quel progetto che avete condiviso è come quando condividete una foto su facebook non potete modificare la foto anche se la condividete sul vostro profilo quello che potete fare è creare una copia di quel progetto che sarà identica al progetto originale salvo che si chiama con il vostro nome perché gli date un nome vostro e potete modificare quello è come se condividete una foto sul vostro profilo facebook la foto originale non la modificate ma create una copia di quella fotografia e su quella foto ci andate a fare degli schizzi con paint quando ricaricate sul vostro profilo le modifiche che avete fatto potete lasciare tutto com'è cioè potete tenere sia il progetto originale dello sviluppatore che avete condiviso sia potete tenere le modifiche del vostro progetto ma GitHub in automatico vi farà comparire un tasto paragona e pull request per paragonare il progetto originale al vostro progetto scarica scarica se faccio clone o download scarico la versione modificata o quella buona domanda allora vediamo dove siamo in questo momento guarda noi siamo Marco from Sicily è il mio profilo si è il puntato una cosa questo ok no non funziona ok bravo allora questo è il mio profilo ok e questo è il nome del progetto quindi sono sul mio profilo ma il mio profilo mi dice forcato dal profilo di un altro sviluppatore vedi quindi questo progetto non è mio ma è un progetto che io ho condiviso ora di questo progetto che ho condiviso come faccio a sapere se questo qui come dici tu è il progetto originale o se è il mio progetto lo vedo da qui dove c'è scritto branch rami il branch master appartiene allo sviluppatore originale vedi David Mill mentre se io cliccassi qui su master potrei scegliere il mio il mio progetto e github mi farebbe vedere sul mio profilo sia quello che ha fatto lo sviluppatore originale sia quello che ho fatto io purtroppo non l'ho non l'ho cliccato e non ce l'ho live però quello che volevo farvi vedere è che dopo che io ho fatto delle modifiche su una una mia una mia copia di questo di questo sistema mi compara il tasto compara e fai una pull request che vi permette di mettere in in evidenza le differenze tra la mia versione del progetto e quella dello sviluppatore originario e di poter chiedere tramite questa specie di finestra di chat allo sviluppatore originale di includere il mio il mio progetto due minuti quindi chiudo subito parlando di github page e mi torno ritorno al discorso originale sul come è cambiato come è cambiato internet che è il il tema di quest'anno github non solo vi permette di tenere traccia dei vostri progetti ma vi permette di ospitare un sito web se voi andate nelle impostazioni dopo che aver caricato questo file in html posso abilitare la funzionalità di github pages per cui l'html che ho caricato me lo fa vedere in live e me lo mostra su una urla che io ho personalizzato con il mio con il mio nome e questo è un un sito online qual è la particolarità di questo sito che negli ultimi anni noi siamo stati abituati ad usare cms cms tipo joomla tipo wordpress che avevano un database e avevano un sistema di controllo di accesso con fondamentalmente degli utenti che voi andavate a creare per il cms wordpress e con cui c'erano vari utenti uno poteva ad esempio modificare la struttura del sito un utente poteva caricare gli articoli questa struttura di internet un po' va a impattare su quello che era il cms perché io posso caricare un sito su internet che non è un sito fatto con un cms quindi non ha un database dietro ma è pure html css e non gestisco il database perché il database viene gestito tramite salvataggi di github e la cosa bella è che è un progetto aperto perché se io lo pubblico chiunque può venire sul mio profilo e farmi le pull request e aggiungere ad esempio una notizia al sito chiedermi di aggiungere una notizia al sito o chiedermi di modificare un errore non so se è chiaro la differenza tra il cms e questa struttura di internet ed è molto interessante perché si torna alla struttura originale di internet che era quella delle pagine di fatto html css che erano delle pagine statiche e la dinamicità viene data dal software di controllo git e non dall'avere un database dietro quella pagina c'è poi un database di git di github però chi fa questo sito web non lo gestisce questo database ok quindi questo era il ok l'ultima parte risorse se proprio vi fa schifo la shell di bash e non volete affrontare quel percorso lì per i vostri salvataggi locale github ha creato una bellissima app con una grafica fantastica che vi farà molto piacere che vi permetterà di fare i vostri salvataggi e di caricarli su github poi dove studiare dove studiare c'è questo corso gratuito su Uda City in inglese che si chiama version control with git lo potete cercare vi potete scrivere è gratuito dura in un weekend ve lo fate vi da tutte le basi di git più o meno quello che ho fatto io però fatto con calma in un weekend in modo che vi guardate tutti i vestaggi bene potete scaricare da Amazon Kindle quest'altro libro che si chiama RIS Kit Tutorial è un libro ben fatto ed è gratuito quindi 0 euro no pubblicità e in ultimo potete potete guardare i tutorial di questo ragazzo che si chiama Dev Tips che trovate su Youtube tranquillamente scrivendo su Youtube Kitab for Noobs che è un tutorial di 4 lezioni da 20 minuti che vi dà le basi di github fatto poi con l'applicazione di github che è quella che vi fa vedere le cose dal punto di vista visuale con una grafica carina e non dalla riga di test sempre in inglese sempre in inglese purtroppo non esiste ancora una documentazione in italiano è che io sappia queste cose che ormai sono quasi fondamentali non vengono insegnate all'università quando credo che uno sviluppatore qualsiasi sviluppatore oggi se non sa usare il social network di github è fuori dal mondo del lavoro ok purtroppo ti devi concludere ho finito grazie 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 grazie